Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Noi abbiamo fatto questo gol importante, però penso che abbiamo fatto una bellissima partita. Purtroppo dobbiamo commentare un altro piccolo errore difensivo, un po' in capitazione tra Eros e Stefano. Come le viste a tutta la condizione? Gli errori succedono, però penso che noi compagni dobbiamo provare a risolvere questi problemi. Però è capitato, adesso guardiamo avanti la parita contro il Modelo. Palermo grinta generosità, cosa gli è mancato? E' il gol, penso che abbiamo fatto tutto il possibile, però alla fine ha mancato il gol. Volevo chiederti, per il gioco che vi chiede il mister, soprattutto a voi terzini, quanto potete influire nel corso del campionato, soprattutto a che punto della preparazione siete? Penso che siamo a un buon punto, chiaro che manca ancora un po' darsi qualcosina, però siamo a un buon punto e facciamo di tutto di andare al 100%. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.